Wow Ciao a tutti i swissloost Bentornati su... No, is on so... Però dov'è F? F D? F D? Oh, non zappicciare la manchina No, son morto, erano due Sesto Cascola Ma come, perchè mi ha scioltato a me? Ci sta quell'altro davanti che ha fatto il duke Come son morto? S... S... Volevano mettere la bomba subito e li ho uccisi tutti e due S... Occhio Guardalo Si ma l'ho ammazzato però Ho ucciso, ti ho vendicato Grazie Stava nel fuf Ho ucciso un'altra Ho ucciso niente Sono morto Ah, ma ci siamo uccisi a vicenda, due S... Oh nooo Uccivando Aia Con il gioco L'ho ucciso Prendi quello L'hecciso E' un barrio Che è che sparo Ma ci ho shami Ma ci ho shami Pattio Eh dai, esporia che ti ha caricato oh questo è esploso sto sponando sto morendo dietro a me grazie si è io grazie no ma come ho nando mi hanno ucciso le barricate a cazzo di bravo perché a me passa non è la gente fa i fili spinati doppia ha detto dove stanno? dove sto io? ecco no dopo sei persone ho uccisi due oh no ce ne erano due in realtà sono due non sai quanti cazzo ne ho uccisi io pure col pugnale ne ho uccisi sei ma qui ho un buon sei sei strunzi ne ho uccisi forza napomi sempre ragazzi forza napomi sempre grazie per aver visto questo video grazie per aver guardato grazie per aver guardato